Buonasera e bentornati in questa seconda edizione del TG6. E apriamo con la cronaca e con la triste notizia dell'ufficialità della morte di Fabrizia Di Lorenzo, la 31enne di Sulmona, che è scomparsa nell'attentato di Berlino. La conferma è arrivata dalla Germania dopo il test del DNA sui familiari ed è stata diffusa quest'oggi dal Ministero degli Esteri del Servizio. In molti in queste ore stanno accostando la tragica fine di Fabrizia Di Lorenzo a quella di Giulio Regeni, due giovani italiani emigrati all'estero per cercare fortuna ma rimasti coinvolti in efferati fatti di cronaca. Al pari del ricercatore italiano ucciso in Egitto, anche la 31enne Sulmonese aveva vissuto il sogno dell'integrazione, questa volta però nel cuore dell'Europa, in una Berlino multietnica e culturalmente in fermento. Il destino però ha scoperto le sue carte in maniera drammatica. A nulla è valsa la speranza ora vana che quel corpo recuperato assieme alle altri 11 lasciati sul campo dal camion della morte guidato dal 24enne tunisino Anis Amri, su cui pendi un mandato di arresto internazionale, non fosse quello dell'Abruzzese. Il test del DNA però, a cui i familiari si sono sottoposti dopo essere arrivati in Germania, purtroppo non ha lasciato scampo. La conferma ufficiale è arrivata questa mattina, poco prima delle 12.50, quando il ministro degli esteri Angelino Alfano, in una nota, ha annunciato la morte della ragazza. Sono affettuosamente vicino alla famiglia e ai suoi cari, condividendone l'immenso dolore, ha dichiarato il titolare della Farnesina, messaggio a cui fa eco quello del capo dello Stato Sergio Mattarella, che ha ricordato come, ancora una volta, una nostra giovane connazionale all'estero si è rimasta vittima della insensata ed esecrabile violenza del terrorismo. L'Italia ricorda Fabrizia Di Lorenzo, cittadina esemplare uccisa dai terroristi, il paese si unisce commosso al dolore della famiglia, è quello che ha scritto in un tweet il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, unendosi al cordoglio del mondo politico ed istituzionale. Accanto al lutto però non si placano le polemiche. Da un lato l'uscita infelice sui cervelli in fuga del ministro del lavoro Giuliano Poletti, dall'altro le critiche all'ex ministro degli interni Alfano perché Amri sarebbe partito dall'Italia, dove ha scontato anche quattro anni di carcere. Un ragazzo seguito dai servizi che potrebbe essersi radicalizzato proprio dentro le sbarre. Sulla testa di Amri c'è una taglia da 100.000 euro per chiunque riesca a fornire notizie utili alla cattura. Le ricerche si estendono in tutta Europa, mentre Sulmona tende di riabbracciare per l'ultima volta la sua Fabrizia. E' una fiaccolata in ricordo di Fabrizia. Si terrà questa sera a Sulmona, città natale della sfortunata giovane. Prenderà il via questa fiaccolata alle ore 21.15 da piazza Carlo Tresca e attraverserà Corso Ovidio fino a giungere a piazza Garibaldi, la piazza principale di Sulmona. Chi vorrà partecipare, fanno sapere gli organizzatori, potrà portare un lumino bianco che verrà acceso alla partenza. A piazza Garibaldi verranno depositati i lumini e verrà detta una preghiera in ricordo della ragazza. Solo ora il governo regionale si accorge che i tribunali cosiddetti minori rischiano la chiusura e convoca un'inutile riunione per gettare solo fumo e il duro attacco del forzista Fabrizio Di Stefano che critica la riunione di qualche giorno fa in regione. Il servizio di Elisa Leuzzo. L'unica proposta percorribile per salvare i tribunali minori sarebbe stata quella di approvare l'emendamento che nel novembre 2015 è stato presentato nella legge di stabilità successivamente bocciato. Lo afferma l'onorevole Fabrizio Di Stefano dopo l'incontro svoltosi a Pescara sulle circoscrizioni giudiziarie cosiddette minori dell'Abruzzo. Io contesto l'utilità di quella riunione dove non è uscito nulla e dove si è chiusa la stalla quando i buoni sono quasi già scappati perché la legge è in monti del 2014 e oggi si dice che a due anni e mezzo di distanza che è il Parlamento che deve intervenire, io dico a questo centrosinistra che si assuma tutte le sue responsabilità perché mai come in questo momento il settore giustizia l'Abruzzo è o dovrebbe essere fortemente rappresentato avendo un sottosegretario a cui aspico la riconferma e il vicepresidente del CSM, ruoli importanti e quindi rifacessero valere. Ma se dicono come hanno detto che deve essere il Parlamento intervenire allora io dico loro che per quanto ci riguarda e per quanto mi riguarda sono già intervenuto. Nell'ultima legge di stabilità io ho proposto un emendamento che andava nel senso del mantenimento dei tribunali minori, come poiché nel Decreto Monti si prevede una deroga, una deroga per quelle realtà in cui i comuni o regioni si accollassero i costi dei fitti della manutenzione delle strutture e del personale. Ecco io toglievo i costi del personale che comunque essendo personale ministeriale comunque resterebbero a carico dello Stato anche in caso di soppressione di questi ospede, di questi enti e di queste strutture e lasciavo ai comuni e alle entità regionali i costi giustamente di locazione e manutenzione. E all'Aquila è stato sequestrato il capannone in cui l'azienda Accord Fenix effettuava il riciclo di materiali elettronici. Tre negli avvisi di garanzia. Giorgio Alessandri. Sicilia, il capannone dell'Accord Fenix, l'azienda nata dopo il terremoto per la raccolta e il riciclaggio di materiali elettronici. Ad apporri la Guardia di Finanza al termine di un'indagine condotta dalla Procura della Repubblica dell'Aquila. Stando a quanto si apprende nello stabilimento sarebbero stati stoccati rifiuti pericolosi e non per complessivi 105.000 kg di scarti di materiale elettronico seppure non fossero state istruite le dovute autorizzazioni. Le fiamme gialle hanno contestato anche le localizzazioni degli impianti che sono stati acquistati per l'avviamento della prima linea di produzione. Nel registro degli indagati per una serie di reati ambientali sono attualmente iscritte in tre il presidente del consiglio di amministrazione e rappresentante legale Ravi Shankar, il consigliere di amministrazione e direttore generale della stessa società Francesco Baldarelli e infine il responsabile della produzione, il danese Anse Jorgen Lundo, i quali sono assistiti dagli avvocati Agnelli e Verini. Come spiegano i legali, l'azienda è pronta a porre in essere qualsiasi tipo di correzioni nelle procedure ambientali al fine di tutelare l'occupazione mentre escludono l'ipotesi che le indagini possano riguardare anche la sovvenzione pubblica di 10 milioni di euro assegnata all'accordo Phoenix, presa dal 4% dei fondi per la ricostruzione post-terremoto destinati al rilancio economico e produttivo della città, assegnata tramite un accordo con l'agenzia Invitalia. Proprio in virtù di questo accordo, l'accord Phoenix si era impegnata a riassumere 128 persone, in larga parte dipendenti fuoriusciti dalle crisi industriali delle aziende FIMEC, FIDA, Intercompel e PA e Service, ma i sindagati hanno denunciato tra essi troppe consulenze o profili esterni e solo 9 operai riassorbiti. Questa mattina a Pescara è stata presentata la intesa tra il comune di Pescara, l'ACA e la ERSI per l'esecuzione dei lavori necessari a migliorare l'efficienza tecnica dell'impianto di depurazione in attesa dell'avvio dei lavori di realizzazione del nuovo depuratore. Sindaco, quali sono i dettagli di questa intesa? E' favorire ogni azione possibile per prevenire gli effetti nefasti dell'inquinamento. Noi facciamo un protocollo di intesa con una serie di soggetti istituzionali volto ad anticipare a cura del comune di Pescara le spese di progettazione relativa ad una serie di interventi che vanno compiuti per sanare il sistema delle acque. Nello specifico parliamo della progettazione di una serie di vasche di laminazione, si chiamano così, o vasche di accumulo, vasche di prima pioggia, significa immaginare delle vasche dove raccogliere l'acqua piovana che non dirà domanda in tilti il depuratore che non riesce a smaltirla al fine di prevenire gli effetti nefasti sulla balneazione. Un lavoro cui ci accingiamo insieme ad altri soggetti istituzionali in un'ottica di preparazione, in un'ottica di prevenzione, in un'ottica anche di programmazione dell'intervento pubblico. E ora la politica e ci spostiamo a Teramo. SEL, comunisti italiani a Rifondazione Comunista hanno deciso di non partecipare al voto per il prossimo rinnovo del Consiglio provinciale di Teramo previsto per l'8 di gennaio. Una stensione per dire no al meccanismo elettivo delle province che prevede, secondo questi partiti, decisioni prese sulla testa e sulla pelle dei cittadini. Tania Bonici Castelli. L'8 gennaio prossimo si voterà per rinnovare il Consiglio provinciale di Teramo. Tre sono le liste presentate, due ricollegabili al presidente di centro-sinistra Renzo Di Sabatino, che comunque resta in carica, e una di centro-destra con dentro NCD. Gli aventi diritto al voto sono i sindaci e i consiglieri comunali dei 47 comuni teramani. C'è però chi si sfila da questa competizione come SEL, Rifondazione Comunisti Italiani, che per coerenza non accettano scelte fatte sulle teste e sulla pelle dei cittadini. Sinistra Italiana ha deciso di non stare con la sinistra di Di Sabatino. Sinistra Italiana, insieme ad altre forze, Rifondazione Comunista, Partito Comunista Italiano e altre espressioni anche civiche delle varie realtà, ha deciso di non partecipare a queste elezioni provinciali di secondo livello, per due motivi. Uno del metodo e quindi proprio di come si va ad eleggere questi nuovi consiglieri provinciali tramite la riforma del Rio con una elezione di secondo livello. Quindi i cittadini vengono totalmente esclusi da questa vicenda, mentre in passato chiaramente il momento delle elezioni provinciali era un momento alto, importante per il dibattito in tutto il territorio. Adesso questo ente trasformato in una sorta di consorzio, un ente di secondo livello, mantiene comunque però funzioni politiche, però non ha la legittimità democratica, non ha il voto popolare. Il dato politico inoltre, per Sinistra Italiana ma anche per altre forze della sinistra, è che rispetto agli anni passati non c'è stata nessuna condivisione di questa progettualità politica e inoltre diverse scelte compiute dal Partito Democratico, il fatto che erano di fatto anche pronte ad allearsi con l'NCD, con il nuovo centrodestra, per noi era tutta una situazione inaccettabile. Quindi concretamente i vostri consiglieri comunali non voteranno? I nostri consiglieri comunali non voteranno nessuna lista in campo. Quindi la vostra assenzione però potrebbe sfavorire le liste di Sabatino e favorire le liste del centrodestra? Sì, ma non è un nostro problema perché è un problema che si sarebbe magari dovuto porre il Partito Democratico che al contrario delle altre volte, questa volta non ha cercato l'alleanza con la sinistra. Stamani in Prefettura Pescara si è svolta la cerimonia di consegna delle onoreficenze dell'ordine al merito della Repubblica Italiana, conferimento effettuato dal Prefetto Francesco Provolo nel contesto del Presidente della Provincia di Pescara, Antonio Di Marco, ha effettuato un bilancio dell'attività svolta dall'ente nonostante le difficoltà di natura economica. Dal cavallerato alla commenda, queste le onoreficenze al merito della Repubblica Italiana concesse dal Capo dello Stato consegnate dal Prefetto di Pescara, Francesco Provolo, nel corso di una cerimonia nel Salone del Palazzo del Governo alla presenza di autorità civili e militari. Per noi è un momento importante perché si premiano le persone che hanno nella nostra società, nel nostro mondo, fatto qualcosa di buono e ce ne sono molte, però quelle che più si rappresentano, che vengono ovviamente ad essere vicino alle istituzioni, vengono premiate. Mi sono, ne ho approfittato per chiedere a tutti i rappresentanti delle istituzioni della provincia di stare insieme a loro, di scambiarci gli auguri e cercare anche di rappresentare la situazione della provincia che in questo momento ha dei problemi sicuramente. Dal punto di vista delle istituzioni dobbiamo fare molto di più, ma questo è possibile anche grazie alle risorse che evidentemente devono essere più importanti e soprattutto certe. Noi come provincia di Pescara in questi due anni di attività di presidenza abbiamo lavorato proprio per mettere in cantiere tutte le opere possibili. Abbiamo cantieri per circa 20 milioni di Euro in fase di realizzazione e abbiamo 70 milioni di Euro che nel 2017 dovranno diventare in qualche misura progetto, esecutivo e quindi opere da realizzare. È chiaro che il sistema economico si basa esattamente su un impulso che deve essere quello delle attività di questo tipo, quindi nell'ambito delle costruzioni come è sempre stato in Italia e anche da noi e quindi noi faremo del nostro meglio per accelerare al massimo le procedure. E poi dobbiamo rimettere in gioco una sintonia con il sistema delle imprese, ma soprattutto con i colleghi sindaci che hanno bisogno anche loro di essere supportati per rintracciare eventualmente le risorse che possono consentire anche nei loro comuni di far partire i cantieri importanti per il nostro territorio provinciale. Terminerà a primavera l'intervento di restauro sulla bolla di Celestino V. I dettagli nel servizio. La bolla del perdono sarà oggetto di un intervento di restauro conservativo da parte dell'Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico Libraio. Il documento emanato da Papa Celestino V all'indomani della sua incoronazione il 29 agosto 1294, elargisce l'indulgenza penaria a tutti coloro che, sinceramente pentiti e confessati, si recano nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio, dai vesperi del 28 agosto a quelli del 29 e della base della celebrazione della perdonanza celestiniana. Fino al 6 aprile 2009 è stata conservata nella Torre Civica di Palazzo Margherita, sede della residenza municipale, ed in seguito custodita all'interno della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza. Come hanno spiegato gli esperti dell'Istituto che hanno effettuato un sopralluogo ricognitivo nel mese di marzo, la perdita del contenuto d'acqua della pergamena richiederà un intervento di idratazione ed un successivo tensionamento per consentire di mantenere la planarità del documento. Anche l'inchiostro si presenta attenuato a causa dell'indebolimento del legante che lo fissa al foglio. La pergamena, una volta reidratata e tensionata, verrà posizionata su un apposito supporto, dotato di caratteristiche che ne garantiranno un'adeguata conservazione, contrastando la tipica tendenza della pergamena a muoversi, adattandosi alle variazioni di temperatura e di umidità ed evitando così possibili contrazioni. Il restauro dovrebbe essere ultimato in primavera. Si tratta, ha spiegato il Sindaco Cialente, di un documento antichissimo e prezioso che pertanto necessita di attenzioni, interventi e ritocchi. Un bene artistico e documentale che riveste un'importanza eccezionale anche sotto il profilo religioso e spirituale. Nella prossima edizione della perdonanza celestiniana, il nostro giubileo, potremo dunque presentare una bolla restaurata secondo le tecniche più efficaci e innovativi, migliorandone la conservazione e la leggibilità. Il più piccolo centro della provincia di Chieti, Monte Lapiano, da pochi giorni può contare sulla rete veloce, un servizio voluto dal primo cittadino per restare al passo coi tempi. Monte Lapiano, il paese più piccolo della provincia di Chieti, sarà connesso alla rete grazie all'Interfibra e al Red Free Social Wi-Fi. Sindaco Arturo Scopino, quali saranno i benefici per il suo comune? Sì, Monte Lapiano è una piccola realtà, come diceva lei e Bucanzi, soprattutto di persone anziane. Abbiamo voluto potenziare questo servizio. È un'occasione che diamo a queste persone, ma non solo ai turisti e ai tanti cittadini che rientrano in estate, di poter accedere gratuitamente a questi servizi e quindi di essere tecnologicamente al passo coi tempi. Può essere anche un buon utilizzo per essere sempre in contatto con i loro parenti o i loro figli che si trovano all'estero? Sì, questo era praticamente un gap negativo che noi scontavamo come comunità. Io in passato ho portato avanti un'iniziativa, ho donato, incomodato a tutti gli anziani un computer portatile, ho garantito loro una certa formazione nell'utilizzo degli stessi e mancava un collegamento che avesse dato la possibilità di connettersi anche con videochiamati con i familiari e con i parenti. Grazie a questo servizio oggi abbiamo superato questa negatività. Possiamo essere competitivi come gli altri comuni. In passato ben due bandi del Ministero delle Infrastrutture erano determinati in ordine al tempo, c'erano i click day, si partivano in determinata oraria con l'invio dei documenti e naturalmente vivendo in questo contesto di montagna poco calibrato sotto il profilo strutturale non siamo mai riusciti a cogliere questi finanziamenti. Questa è un'occasione, una possibilità che ci mette alla pare con i comuni della costa, ma soprattutto con i comuni che vivono a ridosso delle grandi riti urbane, penso a Milano, penso a Roma, etc. Un piccolo comune che può diventare grande e che ambisce a fare progetti e iniziative a favore della propria comunità. Quest'anno il nono grande torneo di Stu, antico gioco di società, si giocherà non solo a Montorio al Vomano, ma anche negli alberghi della costa terramana. L'iniziativa è dell'associazione Il Colle e il Solleone ed ha come finalità quella di coinvolgere le famiglie montoriesi sfollate e alloggiate nelle strutture ricettive di Alba Adriatica e Roseto. La finalissima del torneo è prevista per il prossimo 7 di gennaio. Si rinnova a Montorio l'appuntamento con la nona edizione del grande torneo di Stu, promosso dall'associazione culturale Il Colle e Il Solleone, con il patrocinio del comune di Montorio e del consorzio BIM di Teramo. Una manifestazione che ha un importante valore di aggregazione e condivisione sociale per tutta la comunità montoriese. È per favorire la partecipazione dei numerosi nuclei familiari evacuati dal centro storico di Montorio e alloggiati presso le strutture alberghiere della costa, in particolare a Roseto e Alba Adriatica, quest'anno si è deciso di trasferire i tavoli dello Stu anche in queste località. Ma che cos'è, in che cosa consiste questo mitico gioco dello Stu? Allora, lo Stu innanzitutto è un gioco molto antico, addirittura troviamo tracce nel 1200-1300, poi si è vero voluto negli anni, ed è essenzialmente un gioco di società. Ma la bellezza del gioco sta nel fatto che si sta veramente tutti insieme e con ilarità, ci si diverte molto, perché ci sono tanti sfutto, si riesce a passare una bella serata. Voi addirittura adesso ne fate un torneo, anzi questa è la nona edizione. Sì, noi abbiamo iniziato nel 2008 a fare questa cosa, iniziamo in piazza addirittura con carte figurate, poi nel tempo, siccome di questo periodo normalmente fa freddo, abbiamo deciso di spostarci dentro i locali. Giocare a Stu per divertirsi, ma anche per raccogliere fondi a favore dei più deboli. Grazie ai proventi realizzati dal torneo dello scorso anno, l'associazione ha consegnato tre defibrillatori alla Croce Bianca Onlus di Montorio, posizionati in altrettanti punti strategici del territorio comunale. Quest'anno partecipiamo a un progetto europeo, Nati per Leggere, che ha come finalità la divulgazione della lettura nei ragazzi dell'età prescolare. Infine si dice che le carte dello Stu indichino il destino di una persona che può tenerle o cambiarle. Cosa ho preso? Questo è il leone che da noi chiamiamo l'UFU, è la carta peggiore del gioco, è una carta che quando viene presa ovviamente tutti cercano di liberarsene. E ora apriamo la pagina dello sport con il prossimo servizio dedicato alla gara che si giocherà tra poco più di un'ora allo stadio Renzo Barbera di Palermo, match verità per il Pescara che sarà in campo senza Aquilani e Manai, il primo a rescisso con la società Bianca Azzurra, il secondo ufficialmente vittima di un attacco influenzale ma anche lui è destinato ad andare via e tornare all'Inter da dove era arrivato in prestito. Questa sera quasi certamente ci sarà Pettinari al centro dell'attacco, Cristante agirà in mediana vista anche la squalifica di Valerio Verra, il servizio. A Palermo per la gara verità, stasera il Pescara si gioca il tutto per tutto nello scontro da dentro o fuori contro il Rosanero. Per il Delfino prima della pausa di Natale sarà l'occasione per rimanere aggrappati al treno Salvezza, lo farà senza lo squalificato Verra, espulso domenica col Bologna e Pepe ancora infortunato, ma i Bianca Azzurri saranno privi anche di Alberto Aquilani, il colpo estivo della campagna acquisti dirà addio all'Abruzzo appena si aprirà la finestra invernale di mercato. D'altronde la scintilla non è mai scoccata con l'ex Roma, Juve e Milan, così come con Ray Manai, anche lui tornato a casa causa sintomi influenzali ma sul piede di partenza proprio perché finora non ha mai convinto. E allora Oddo avrà scelte praticamente quasi scontate per stasera, con Ghiomber e Campagnaro centrali, Zampano e Biraghi sugli esterni, Brugman regista, Memusciai e Cristante a dargli manforte, Benalì e Caprari alle spalle di Pettinari. In casa Palermo Corini ancora qualche dubbio ma dovrebbe valare un 3-4-2-1, difesa a tre con Cionec, Goldaniga preferito al rientrante Gonzales e Andielcovic. In mediana Alisami e Rispoli esterni con Iaialo e Gazzi, diga centrale. Corini non dovrebbe rischiare dall'inizio tra i Koschi che ha risolto il match di Marassi domenica sera e allora lascerà uno dei due posti dietro a Quaison che partirà dall'inizio proprio al posto del Macedone. Oltre a lui Bruno Enrique a supporto di Ilya Nestorowski, autore già di 7 gol al primo campionato in Italia. Il pescara Palermo non ha mai vinto in 20 confronti, 12 successi siciliani e 8 pareggi. Ma stasera per il Delfino non ci sono alternative, vincere per regalare e regalarsi un Natale migliore di quello che sarebbe se la serata del Barbera dovesse rivelarsi ancora una volta amara. Una serata che seguiremo con la trasmissione diretta a stadio a partire dalle ore 20 e 15 con collegamento prepartita, la cronaca poi della partita stessa, cronaca e commento e poi le impressioni dei protagonisti nell'immediato dopo gara. Vediamo il quadro della Serie A perché questa è la penultima giornata di andata che ha avuto già due anticipi, due giorni fa l'Atalanta ha battuto l'Empoli 2-1, ieri l'Inter ha sconfitto la Lazio per 3-0, due partite sono rinviate al prossimo 8 di febbraio, sono quelle che interessano le due squadre, Juventus e Milan che domani si sfideranno a Doha nella finale di Supercoppa italiana, dunque Bologna-Milan e Crotone-Juventus sono rinviate al prossimo 8 di febbraio. Questa sera a partire dalle 20 e 45 Cagliari-Sassuolo, Fiorentina-Napoli, Palermo-Pescara, Roma-Chievo-Verona, Sampdoria-Udinese e Torino-Genua. E poi sempre per la Serie A c'è un aggiornamento relativo al caso, alla vicenda Sassuolo-Pescara perché il ricorso presentato dal Sassuolo verso la Federcalcio e il Pescara per l'impugnazione della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale che ha inflitto lo 0-3 a tavolino alla società emiliana sarà discusso il prossimo 9 di gennaio. Per quella data infatti il Presidente della prima sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, Mario Sanino, ha fissato la prossima sessione di udienze. E ora scendiamo in Lega Pro, anche in questo caso vediamo il quadro della giornata, una giornata che sarà la prima di ritorno con il Teramo che ripartirà ospitando il Lumezzane dopo il pareggio dell'ultima andata, sempre al Bonolis contro la Feralpi-Salò. Il quadro intero delle partite è il seguente, Fano su Tirol, Feralpi-Salò, Sant'Arcangelo, Forlì-Venezia, Gubbio-Pordenone, Maceratese-Albinoleffe, Mantua-Ancona, Padova-San Benedettese, Parma-Modena, Reggiana-Bassano e appunto Teramo-Lumezzane. Teramo che per la gara di domani sarà privo degli infortunati Scipioni e Jefferson. Non c'è ovviamente Cericola che in settimana ha risolto il suo contratto con la società bianco-rossa, diversi i dubbi di formazione da sciogliere per il tecnico Zauli che oggi dopo l'allenamento di rifinitura ha presentato così la partita. Se vogliamo evitare i play-out dobbiamo fare sicuramente meglio di quello che è stato fatto nel giugno d'andata, quindi è il primissimo obiettivo. Quello che mi preme è sottolineare il fatto che venerdì e domani è una partita molto importante perché nel giugno di torno più partite passano e meno possibilità di recuperare anche se ancora ne mancano tantissime, però sicuramente non può essere partite considerate l'ultima spiaggia, non ti salvi domani, non retrocedi domani, però tutti noi dentro lo spogliatoio sappiamo che è una tappa molto importante. Da quando sono rientrato sicuramente ho avuto grande disponibilità da parte di tutti, la squadra sono molto molto dentro, hanno voglia di uscire da questa situazione, quindi ho avuto veramente la disponibilità di tutti i giocatori, quindi prescindere dall'infortunato chiaramente. Quindi anche la settimana scorsa avevo visto grande voglia di fare una buona partita, poi le difficoltà della partita sono davanti agli occhi di tutti, insomma incontriamo sempre squadre importanti e poi soprattutto se noi dobbiamo limare assolutamente errori che ci condizionano un po' tutto l'andamento della partita, perché anche questa con l'Ofer al Pisolò è vero che abbiamo fatto una partita, l'abbiamo riacciuffata alla fine, abbiamo commesso errori, abbiamo fatti, però è anche vero che abbiamo concesso le palle, le palle gole, le palle che decidono un po' la partita in maniera un po' troppo banale agli avversari e quindi con questa qualità che c'è in questo campionato sicuramente certi errori non ti permettono di fare risultato. Io mi aspetto un termo che abbia lo spirito di voler andare a conquistare la palla, mi hanno insegnato fin quando giocavo che le pre-partite si preparano quando è il non possesso palla che vedi lo spirito di squadra, non quando ce l'hai e quindi è quello lo spirito, è quella la concentrazione che pretendo da tutti, se abbiamo tanti giocatori che hanno la voglia di andare a conquistare la palla con la famosa rabbia agonistica che fa la differenza nelle squadre, sicuramente ci giocheremo le nostre partite. Dentro questo, che è obbligatorio averlo, c'è che ogni giocatore deve cercare di migliorare la propria prestazione, ma non nel termo in generale, quindi questo me lo aspetto singolarmente, pretendo che ogni giocatore dentro di sé abbia quell'ambizione di migliorare se stesso e poi il sottoscritto ha l'obbligo di far sì che lo spirito che abbiamo detto fino adesso sia dominante per cercare di fare risultati. Nell'ultimo servizio parliamo di pallanuoto, dunque cambiamo disciplina e lo facciamo con colui che è stato considerato il maradona della disciplina, il maradona della pallanuoto, ha giocato per tantissimi anni a Pescara e a Pescara è legatissimo, ovvero Manel Estiarte che è tornato proprio nei giorni scorsi in città e alla piscina Lenaidi ha incontrato i più giovani per parlare di sport e di quella che è stata la sua esperienza di atleta. Vediamo. Allora Estiarte, l'entusiasmo non manca mai qui a Pescara quando si parla di pallanuoto, quando si parla con te, quando si parla con i ragazzi più giovani. È bello che ci sia entusiasmo a Pescara nella pallanuoto, io penso che non si ha perso mai, ci sono diversi momenti, periodi, però Abruzzo-Pescara è planotistica in fondo, c'è molta tradizione, ci sono stati dei momenti straordinari e adesso si sta cercando di riorganizzare nel vivaio e sono sicuro che si farà del bene. A questi ragazzi hai parlato di pallanuoto, hai parlato di sport ma hai parlato soprattutto di valori e sei riuscito a tenerli incollati per 35 minuti buoni. Ci apparlo come un vecchietto, capito, i valori, ma è vero, alla fine ti rimane questo, quando passa il tempo, guardi un po' indietro, dai molto valore ai momenti vissuti nel percorso, non tanto al traguardo finale, l'Olimpiada vinto, il campionato del mondo vinto, anche sì, me lo tengo stretto, però quella strada, ripeto, quei momenti vissuti con i compagni, nella società, nella piscina dove hai cresciuto, nella piscina dove poi hai competuto con i tuoi compagni, ripeto, è la cosa che gli dà più importanza, quello che hai imparato in questo percorso, tutti questi valori di umiltà, di rispetto, di gruppo, di sacrificio, di disciplina, di lavoro, eccetera, sono le cose che poi ti servono nella vita, ti aiutano almeno la penso così adesso. Passa il tempo e tu valorizzi, tu ti rendi conto dove sta la vera essenza di una vita, sta nella famiglia, sta nei tuoi figli, in tua moglie, la gente che ti vuole bene, la gente che voglio bene, cioè che loro stiano bene, per questo priorità assoluto, se tu mi vedi un sogno nel cassetto, la felicità dei miei, ma via, scontato, senza di dibattito. Finisce qui la seconda edizione del TG6, vi ricordo ancora una volta alle 20 e 15 diretta a stadio per seguire insieme la partita del Pescara, impegnato questa sera alle 20 e 45 a Palermo, ovviamente proprio per questo motivo la terza edizione del TG6 subirà uno slittamento e andrà in onda successivamente la nostra diretta. È tutto, grazie per l'attenzione e buona serata. Grazie per l'attenzione e buona serata.